Ci siamo, si aprono le gabbie, partiti cavalli della quinta corsa. Parte molto veloce Sturdust che si porta subito al comando delle operazioni lungo la corda. Buona la partenza anche di Lady of Fire, prima linea anche per la giubba celeste che è quella di Messera Aprile. Seconda linea invece è formata da Sveva Spirito, un muro privato, perla di Labuan, Eva Nera, parole infinite. A Cala che è la favorita che viaggia al centro del gruppo con la giubba bianca e arancio, poi il grigio Paolo Gray che chiude in coda. Prima parte di gara piuttosto veloce, Sturdust è in vantaggio lungo lo steccato nei confronti di Lady of Fire e lo stesso Messera Aprile che invece si impegnano più al centro della pista. Sveva Spirito che cerca di recuperare qualcosa, un muro privato che cerca la schiena giusta, parole infinite invece lungo la corda vicino allo stesso Sturdust con 400 metri da percorrere. Il Messera Aprile dal centro della pista è in leggero vantaggio nei confronti di Lady of Fire, ci prova un muro privato che ha preso la schiena della stessa Lady of Fire. Lungo lo steccato c'è anche parole infinite, ci prova anche Sveva Spirit con Messera Aprile che è in leggero vantaggio attaccato da un muro privato e della stessa Lady of Fire. Si mette sulle gambe anche a Cala dal centro della pista, un muro privato che fa lo scatto insieme ad Acala, un muro privato e da Cala, un muro privato che oggi ribalta la linea e vince nei confronti di Acala. E regala una doppietta al team di Massimo Scoccione, in sella ancora Alessio Satta numero 8 al primo posto con un peso basso dopo il rientro interlocutorio su terreno duro, oggi su terreno pesante. Preso una bella schiena ma soprattutto è stato autore di un grandissimo scatto conclusivo, l'esultanza di Alessio Satta. Per numero privato era la vittoria numero 2 in carriera per il figlio di Black Mambazzo, al secondo posto Acala che era la favorita al terzo Lady of Fire, numericamente dunque 8-4-2. E all'ordine d'arrivo numerico ufficioso probabile della quinta corsa, un muro privato al tot pagava 5,27, 5 a quota fissa. Stiamo rivedendo di nuovo il frontale, di nuovo la fase finale attraverso la nostra regia che ci propone il frontale. La bella vittoria in un muro privato da Capanelle per la penultima è tutto. Grazie a tutti.